Milkovic sicuramente nella prima grande sfida della stagione la risposta che tutti si attendevano. Sì, siamo stati bravi secondo me, soprattutto nell'atteggiamento, perché ci abbiamo creduto davvero dall'inizio fino alla fine, non abbiamo mollato mai. Siamo stati un po' sotto nel terzo set, però secondo me non abbiamo mai avuto la sensazione di perdere, perché eravamo molto concentrati e secondo me è stata la prima vera partita di quest'anno. Nel senso che abbiamo giocato con l'atteggiamento giusto. Un segnale importante per il campionato, la dimostrazione che questa lube c'è e oggi avete dimostrato il vostro valore contro un grande avversario. La lube c'è, la lube c'è, a volte purtroppo non riusciamo ad esprimerci al massimo, noi ci dispiace davvero tanto perché lavoriamo molto duramente, quindi quando non giochiamo bene noi siamo i primi che purtroppo non siamo contenti, però quest'oggi non abbiamo nulla da rimpiangere, siamo molto contenti, ce la godiamo e poi vediamo cosa succede nelle prossime partite. Adesso c'è anche la super sfida di Champions subito, non c'è tempo mai per riposare. Appunto, diciamo che non abbiamo tempo per rifiatare, però siamo contenti di giocare così tante partite perché rimaniamo sempre sul pezzo, quindi va bene, dai, va bene. Qui a Perugia sempre comunque bei ricordi, è un palazzetto che porta bene. Ah sì, dai, l'ultima partita che abbiamo fatto qua è stata molto bella, quindi vabbè, oggi è stata una grande partita, quindi speriamo di continuare su questo filone.